E' successo che sabato pomeriggio scorso si presentò il sindaco da me in persona, ero un tardo pomeriggio, e mi disse che aveva notato la scomparsa con due bonifici di 110.000 euro, due bonifici del valore di 90.000 euro e di 20.000 euro. Immediatamente abbiamo preso la denuncia, perché è la prima cosa che in questi casi c'è da fare, e è uno dei pochissimi, rarissimi casi che è accaduto in Italia. Personalmente la prima volta che io con la chiavetta on banking ho sentito questa cosa, nella mia carriera di 22 anni non era mai capitato, ci siamo messi all'opera. Direttamente sabato sera abbiamo studiato tutta la domenica il modus operandi di quest'hacker e abbiamo cercato di capire cosa fare. Il lunedì mattina, praticamente il lunedì mattina alle 8, prima che ancora che aprissero le banche, ci siamo attivati per capire questi soldi bonificati dove fossero andati a finire. Abbiamo scoperto che erano andati a Voghera, provincia di Pavia, su un conto online che banca. Bene, allora qui alcuni dettagli, non lo dirò non solo perché ci sono indagini, ma anche perché non voglio scoprire le carte e quindi dare l'opportunità poi agli hacker di capire qual è il nostro metodo, il modus operandi nostro. Quindi dirò solamente che mi sono messo in contatto con il direttore di che banca online. Inizialmente c'è stato un po' di ostruzionismo perché noi solo con una denuncia non riusciamo a congelare i soldi. I soldi che già erano, precisiamo, già erano tutti, i 20.000 già bloccati, gli 87.000 già erano nella disponibilità dell'hacker, del truffatore. Cioè è una cosa incredibile. Quindi diciamo che l'abbiamo preceduto per pochi minuti. Abbiamo imposto, ordinato al direttore di che banca di congelare quei soldi. Questo lo possiamo fare, ma lo possiamo fare a voce e con una piccola nota scritta noi come commissariato. Non è una cosa così semplice perché lì ci richiedeva un decreto del magistrato. Allora abbiamo iniziato a studiare qual era, come fare. Perché per un decreto del magistrato ci vogliono 24 ore, bisogna andare a Napoli in procura, prendere l'escafo, tornare indietro col decreto. Avremmo perso i soldi. Perché i soldi, li dico, dopo 10 minuti sarebbero stati trasferiti in un conto in Slovacchia. Avevamo già captato questa cosa. Quindi mi sono imposto, con una decina di telefonate con il direttore, ha detto voi congelatemi i soldi. Adesso vedo come fare. Ci stavamo inventando col 321 del CPP che è praticamente un sequestro preventivo fatto dagli ufficiali di polizia giudiziaria che possono sostituirsi in questo caso al magistrato per poi però farlo compalitare alla procura. E avevamo già concordato con queste ipotesi con la procura. Quando praticamente il direttore ha capito che insomma c'era qualcosa in atto e bene insomma si è attivato e ha fatto quello che si chiama operazione di recall in inglese richiamo praticamente. Quindi una volta congelati siamo riusciti immediatamente a fare questa operazione da Ischia a Voghera di recall e i soldi dopo 48 ore sono ritornati dal legittimo proprietario del sindaco Ferrandino. E intanto per chi ha commesso questo tipo di reato che cosa si profila? Sicuramente accesso abusivo ai sistemi informatici. Gli abbiamo dato la truffa e gli abbiamo dato il riciclaggio. Tre reati che poi dovrà rispondere e abbiamo già individuato chi erano entrambe le persone e dopo vi mostrerò anche la fotografia di uno di queste due persone. Praticamente è la mente dell'operazione. La mente che diciamo lo possiamo equiparare a un hacker in questo caso è un grandissimo programmatore di computer. Possiamo paragonarlo io, lo paragono anche dalla fisionomia che ha uno scienziato.